Sì, qua siamo in Borgo Incrociati, quello che abbiamo definito in questi giorni l'epicentro dell'alluvione di Genova, la zona più danneggiata. Oggi è anche il giorno in cui sono apparsi molti striscioni di protesta nei negozi, nelle vetrine dei negozi danneggiati, striscioni rivolti al Presidente della Regione, al Sindaco Marco Doria. La rabbia è molto ovviamente. Grazie Doria, grazie Burlando, che uomini in tre anni nulla fate schifo, c'è scritto su un lenzuolo appeso sotto uno di questi negozi. E poi un altro negozio con, in questo caso, dei manifesti, potete vedere dove i messaggi più o meno sono gli stessi, ci ha rovinato. E questo è il segnale che gli abitanti di Borgo Incrociati vogliono dare all'amministrazione, alla pubblica amministrazione. Vedete, questa è la zona del Borgo, ovviamente molto meno popolata dei giorni scorsi, ma ricordiamo che proprio poche ore fa c'era stata una forte pioggia che si è abbattuta su Genova, durata per fortuna solo pochissimi minuti e questo ha convinto le persone che erano in questo caso qua a fare servizio di volontariato e di assistenza, a lasciare molto velocemente la zona, ma come vedete a poco a poco tutti stanno tornando a dare una mano, a cercare di dare una mano alla città. Sono arrivati anche volontari, volontari anche da altre zone d'Italia e questo è quello che sta succedendo in questo momento a Borgo Incrociati. Vi rilascio la linea, studio.